Il Banco del Carlo del Malo che presenta questo video se ci puoi descrivere in due parole poi avremo modo di vedere in maniera più approfondita il tuo video che cosa volevi raccontare Allora, questo documentario inizia nel momento in cui ho nella lettura di due testi molto diversi come una raccolta di Poesie di Montale e un testo di Natalia Ginzburg ho incontrato delle convergenze nei confronti di una persona, di un personaggio e queste convergenze in qualche modo avevano delle incongruenze e che mi ha suscitato molta curiosità e ho voluto investigare attorno a questa persona a questo Silvio Tanzi che era un musicista, un compositore che appunto è morto suicida a 30 anni e entrambe però le fonti avevano o delle imprecisioni o nascondevano qualcosa io ho voluto raccontarlo basandomi sui testi di Montale della Ginzburg in particolare ho voluto raccontarlo con un lessico familiare che non fosse quello della Natalia Ginzburg ma fosse quello della mia famiglia e questo lo si vede nelle immagini che sono tutte delle pellicole in 8 mm che io ho trovato per caso che riguardano la mia famiglia e anche la narratrice e le voci che ho voluto usare sono tutte dentro il mio nucleo familiare e ho cercato di raccontare la vicenda di questo Silvio ma come se fosse un'ombra che quasi tutte le famiglie o che tutte le famiglie hanno e che preferiscono lasciare ombra e ho voluto raccontarla ma attraverso le immagini che rappresentavano le mie di Ombra in qualche modo di persone che non ho mai potuto conoscere o che ho solo sentito dire ho conosciuto e presentito dire in tutto il viaggio finalmente questo grido ogni volta che penso a lei voglio tornare, voglio rientrare perché sape che lei non è là ad attendermi tornare dove lei non è laddove niente di estraneo, di indifferente mi ricorda che lei non c'è più già qui dove sono stata così vicina ad una solitudine sopportabile dove insomma mi sono sentita meglio che in tutti i miei viaggi qui non appena il mondo faceva il popolino mi sentiva meno bello scrivere per ricordarsi non per ricordarmi ma per combattere la racerazione dell'obbligo così come si annuncia in quanto assoluta imminente più nessuna traccia da nessuna parte di nessuno abbiamo voluto lavorare su il documentario il documentario d'archivio e voglio raccontare delle vicende di tre personaggi del mondo dello sport il primo è stato Frankie Fredericks un atleta della Namibia il secondo è stato Patrick de Gaillardon un paracadutista e quest'ultimo è della ginnasta Nadia Comaneci in particolar modo la cosa che ci ha colpito della vicenda della Comaneci è stato la realizzazione dell'esercizio perfetto perché appunto come risultato aveva conquistato i 10 è stata la prima della storia e quindi interrogarci su cosa significasse l'immagine perfetta questo documentario ha avuto come bersaglio come obiettivo proprio immaginare l'immagine perfetta al di là del supporto visivo e quindi cosa significa l'immagine perfetta cosa significa all'interno di una componente visiva l'essere perfetto e la perfezione e anche su dei livelli di senso diciamo più filosofici e abbiamo prodotto questo video che racconta le imprese della Comaneci ma in qualche modo è legato anche alla dimensione del senso della perfezione quindi si indaga da più punti di vista in qualche modo sulla perfezione sulle immagini perfette Mito the Artist è l'incontro con l'artista come dire per conoscerlo anche in altri ambiti e per bere anche un'apparito prossima luoghi, infatti e persone solo in questo libro reali non ho inventato niente e ogni volta che sulle tracce del mio vecchio costume di romanziera inventavo mi sentivo subito spinta a distruggere quanto avevo inventato anche i nomi sono reali sentendo io una così profonda intolleranza per ogni invenzione non ho potuto cambiare i nomi veri che mi sono apparsi indissolubili dalle persone vere non avevo molta voglia di parlare di me questa di fatti non è la mia storia ma piuttosto purtroppo vuoti la storia della mia famiglia Sara Guzato e Susanna Quinto le curatrici di Biddiatis qual è l'obiettivo di Biddiatis? l'obiettivo principale è quello di far riconoscire l'arte contemporanea in un modo molto spontaneo e più vicino all'intrico senza avere la barriera dell'istituzionalità che ci può essere nel classico museo quindi vivere il momento con l'artista e poterci appunto parlare confrontare sia il suo lavoro che insomma il mondo dell'arte in generale Susanna invece come hanno reagito voi avete sentito la storia di locali questa sera siamo al Gottino e invece la controparte chi vi ospita? ecco come ha visto questa iniziativa? chi ci ospita ha visto l'iniziativa in modo molto positivo sono tutti molto disponibili ad accettare questo limito e in quanto per il locale può essere un momento diverso tra alcun evento e quindi offrire un'alternativa diciamo alla solita spesa e al solito aperitivo devo aggiungere nel corso della mia infanzia e adolescenza mi proponevo sempre di iscrivere un libro che raccontasse delle persone che vivevano allora intorno a me questo è in parte quel libro ma solo in parte perché la memoria è labile e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esiti barlumi e scheggi di quanto abbiamo visto e udito grazie a tutti grazie a tutti